Pur di ottenere un pulito profondo, a volte rischiamo di rovinare i tessuti. Ma come facevano una volta? La mare andava in campagna quando il sole tramonterà, tramonterà! Chissà quando, chissà quando ritornerà! Ho capito! Il segreto era il sapone. E oggi lo trovi in scaglie dentro Nuovo Ava. Così pulisce in profondità e... rispetta i tessuti. Nuovo Ava, il sapone di ieri, il pulito di oggi.